è cosa ben triste per quanti passano per questa grande città o viaggiano per il nostro paese vedere le strade sia in città sia fuori e le porte delle capanne affollate di donne che domandano l'elemosina seguite da tre quattro sei bambini tutti vestiti di stracci che importunano i passanti queste madri invece di avere la possibilità di lavorare e di guadagnarsi onestamente da vivere sono costrette a passare tutto il loro tempo andando in giro ad elemosinare il pane per i loro infelici bambini i quali una volta cresciuti diventano ladri per mancanza di lavoro penso che tutti i partiti siano d'accordo sul fatto che tutti questi bambini in quantità enorme che si vedono in braccio sulla schiena o alle calcagna della madre spesso del padre costituiscono un serio motivo di lamentela in aggiunta a tanti altri nelle attuali deplorevoli condizioni di questo regno e quindi chiunque sapesse trovare un metodo onesto facile e poco costoso atto a rendere questi bambini parte sana ed utile della comunità acquisterebbe tali meriti presso l'intera società che gli verrebbe innalzato un monumento come salvatore del paese un americano mia conoscenza di londra uomo molto istruito mi ha assicurato che un infante sano e ben allattato all'età di un anno è il cibo più delizioso sano e nutriente che si possa trovare sia in umido sia arrosto al forno o lessato ed io non dubito che possa fare lo stesso ottimo servizio in fricassea o a ragù un bambino renderà due piatti per un ricevimento di amici quando la famiglia pranzerà da sola il quarto anteriore o posteriore sarà un piatto di ragionevoli dimensioni stagionato con un po di pepe sale sarà ottimo bollito al quarto giorno specialmente d'inverno ho calcolato che in media un bambino appena nato venga a pesare 12 libre e che in un anno solare se nutrito passabilmente arrivi a 28 ho calcolato che il costo di allevamento per un infante di mendicanti nella quale categoria faccio entrare tutti i contadini i braccianti e i quattro quinti dei mezzadri è di circa due scellini all'anno stracci inclusi ed io penso che nessun signore si lamenterà di pagare 10 cellini il corpo di un bambino ben grasso che come ho già detto può fornire quattro piatti di ottima carne nutriente i signori più parsimoniosi potrebbero poi scuoiare il corpo la cui pelle trattata artificialmente da meravigliosi guanti per signora e stivaletti estivi per signori eleganti per quanto concerne la nostra città di dublino nelle parti più acconce potrebbero apprestarsi mattatoi per codesta bisogna e possiamo star certi che non mancheranno i macellai anche se io vorrei raccomandare di comprare vivi bambini e di prepararli caldi appena finito di usare il coltello come si fa per arrostire i maiali il brano che vi ho appena letto ci arriva da una modesta proposta per evitare che i figli degli irlandesi indigenti siano di peso ai genitori o al paese facendone un beneficio per tutti si tratta forse della più celebre satira in lingua inglese composta dalla penna di un grande autore irlandese jonathan swift a 62 anni ma con il piglio urticante scomodo provocatorio e politicamente scorretto dei suoi scritti giovanili questa volta a scuotere la furibonda indignazione dello scrittore satirico più scomodo del settecento sono le intollerabili condizioni di miseria in cui diversa all'irlanda a causa della dello sfruttamento colonialista dei governanti inglesi ecco che allora swift con il linguaggio razionale logico impassibile dei teorici dell'utilitarismo propone la soluzione economicamente più vantaggiosa per capitalizzare la prolificità degli irlandesi mettere in vendita i loro figli più grassi dell'età di un anno che cucinati in vario modo forniranno delle squisite pietanze ai ricchi così si combatteranno anche la sovra popolazione la disoccupazione mentre i poveri risparmieranno contribuendo così al benessere economico dell'intera nazione si trattava insomma di una proposta solida e concreta come scriveva l'autore del libello una proposta di nessuna spesa e di poco disturbo che sarebbe rientrata pienamente nelle possibilità di attuazione non facendo correre nessun rischio di recardanno all'inghilterra un classico della letteratura satirica Jonathan Swift a tutti noto dall'infanzia per i viaggi di Gulliver imbastisce qui una parodia sconcertante e paradossale sull'iniquità delle discriminazioni sociali e anche sull'asserdimento dell'etica al sistema economico un testo lucido attualissimo delizioso e terribile di letteratura politica che vi invito a pregustare sconcertante e paraguosa Grazie a tutti.